Tasse e contributi universitari Hanno diritto all'esonero totale da tasse e contributi studenti e studentesse con disabilità che si trovano nelle seguenti condizioni. 1. Riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3,1 della legge 5 febbraio 1992 numero 104 2. Con un'invalidità pari o superiore al 66% 3. Con un'invalidità tra il 33% e il 65% con ise inferiore o uguale a 30.000 euro. 4. Al momento dell'immatricolazione dovranno pagare esclusivamente l'imposta fissa di bollo di 16 euro. 5. Hanno diritto all'esonero parziale da tasse e contributi Gli studenti e le studentesse con disabilità con un'invalidità tra il 33% e il 65% con ise superiore a 30.000 euro. Tutte le informazioni su tasse e contributi universitari sono disponibili sul portale sezione Tasse e contributi universitari. La contribuzione studentesca è disciplinata dal regolamento Tasse disponibile nel sito degli organi collegiali.